A circa un anno dalla tragedia che vide perire nel cratere della Solfatara Massimiliano e Tiziana Carrer, 45 e 42 anni, e il loro piccolo figlio undicenne Lorenzo, la magistratura ha richiesto una superperizia in grado di cristallizzare eventuali prove inerenti a alcune ipotetiche falle nella gestione della sicurezza e anche in vista della riapertura al pubblico del sito. Attualmente le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni di un testimone della tragedia alla quale scampò soltanto il figlio più piccolo della famiglia di otto anni. I tre componenti della famiglia Carrer sono stati uccisi dalle salazioni di gas provenienti da una delle caldare attive nel sito e il tutto, secondo quanto sarebbe emerso dalle ricostruzioni degli investigatori, sarebbe iniziato per la volontà del piccolo Lorenzo di scattare una fotografia. Nel gesto, purtroppo, i suoi piedi si sarebbero poggiati su una parte friabile del terreno, che lo avrebbe fatto poi sprofondare. Successivamente i genitori si sarebbero calati nel tentativo di prenderlo, perendo poi per le esalazioni di gas. Secondo i sostituti procuratori che indagano su quanto avvenuto, la tragedia si sarebbe potuta evitare. Al centro quindi delle indagini il rispetto o meno delle norme di sicurezza all'interno del sito di Pozzuoli.